Musica Violenza sulle donne, tre case in pochi giorni. Cosa succede a Sondrio? Premio Costruiamo il Futuro, la Valtellina scopre un mondo di volontariato. Dalla regione 5,6 milioni per rifugio alpeggi e 9 milioni per l'agricoltura. Sertori, concessioni idroelettriche, una partita da vincere anche in Europa. Arto urbano alla piastra, l'orgoglio di essere una vera comunità. Un ecologico ritrovato per l'appuntamento con l'informazione TSN, un'edizione che oggi apriamo con la cronaca, tre casi in pochi giorni. In Valtellina resta alto l'allarme per i casi di violenza sulle donne fra le mure domestiche o nei confronti delle ex compagne. E la questura a questo punto invita tutte le vittime o le possibilità a chiedere sempre aiuto alle forze dell'ordine. Vediamo. Violenza sulle donne fra le mure domestiche, una piaga che sembra sempre difficile da guarire. La Polizia di Stato di Sondrio, in ambito delle molteplici attività di carattere preventivo, nel contrasto alle condotte violenti nei confronti soprattutto di vittime fragili, ha eseguito tre misure di prevenzione personale adottate dal questore Sabato Riccio. Il primo provvedimento è stato emesso su richiesta dell'arma dei carabinieri nei confronti di un giovane che in Stato di manifesto obbliacchezza ha aggredito l'ex compagna. Gli ulteriori due provvedimenti sono invece stati emanati all'iniziativa della divisione anticrimini della questura di Sondrio. Uno nei confronti di un uomo che dopo aver contattato più volte l'ex compagna via telefono e via email, nel tentativo di incontrarla dopo la decisione di lei di troncare la relazione, si è presentato sul posto di lavoro, stratonando la donna alla presenza dei colleghi. Il terzo provvedimento di ammonimento è stato invece emanato nei confronti di un giovane che in modo insistente e alla presenza di minori ha più volte minacciato l'ex ragazza, compendola fisicamente con schiaffi e calci e insultandola verbalmente. Al proposito, la questura ribadisce l'importanza per le donne vittime di abusi e di violenza di rivolgersi alle forze dell'ordine per segnalare le condotte che niente hanno in comune con il vero significato di amore e di rispetto della persona. Ed ora voltiamo pagina e ci concentriamo sul mondo del volontariato. Premiate 41 associazioni, 500 le persone presenti al sociale di Sondrio, 2 milioni gli aiuti dati in questi anni in Lombardia. Sono alcuni dei numeri legati all'evento finale di Costruiamo il futuro, premio Edison. Vediamo. Impossibile elencarle tutte. E questo è il primo segno positivo. Vuol dire che il volontariato in valle gode di ottima salute. Oltre 500 persone al teatro sociale di Sondrio, per l'evento finale di Costruiamo il futuro, premio Edison, con la consegna di assegni fino a 5 mila euro, a chi ogni giorno lavora per favorire inclusione, assistenza e bellezza. Premiate 41 associazioni fra Valtellino e Valchiavenna. È stato così raggiunto un traguardo speciale per il premio, 2 milioni di euro distribuiti in Lombardia. Mi sembra un segnale molto concreto di aiuto agli eroi del quotidiano. Tra l'altro continuiamo a ricevere domande. Questo è un segnale di ricchezza di questo territorio, ma di quanto c'è bisogno anche di aiuti concrete per queste piccole associazioni. Sono state più di 140 le domande di associazioni che abbiamo ricevuto quest'anno, quindi in crescita rispetto alle altre 5 edizioni. Siamo molto felici e anche quest'anno siamo riusciti a dare il nostro contributo insieme alla fondazione Provalterlina, insieme agli altri partner e ovviamente alla fondazione Costruiamo il futuro. Sul palco anche la campionessa olimpionica Deborah Compagnoni, promotrice da anni di sciare per la vita. Deborah è stata prima nello sport in virtù delle sue tante vittorie, fra le quali tre medaglie olimpiche, ma è anche campionessa di solidarietà. Dà anche uno stimolo alle aziende a credere in questi progetti, a credere nello sport soprattutto, che è formativo. E non lo dico solo perché io l'ho praticato e che poi è stata la mia vita, ma anche proprio una fase di crescita in questi tempi sempre più importante. un impegno sano che poi nel futuro fa sempre bene e poi una cosa molto bella per la nostra provincia. I riconoscimenti maggiori sono andati a contatto, comunità di accoglienza, sciare per la vita, ricerca e cura per le malattie leucemiche, all'ecofaunistica Valmalenco. Medaglia d'oro per i volontari speciali Emilia Bettini Grassi e Amos Dell'Oca. L'orgoglio di avere qua la fondazione, la quale tutti gli anni sta crescendo, è una cosa che è nata, quando ci penso mi sembra impossibile. Abbiamo il presidente che è una macchina da guerra, che siamo partiti pensando di coprire la Brianza, abbiamo praticamente coperto la Lombardia. E come detto dal presidente Lupi, qui abbiamo gli eroi del quotidiano, quelli che in silenzio lavorano con gli altri e per gli altri. Ed ora cambiamo nuovamente argomento, perché la regione Lombardia stanza quasi 6 milioni di euro a fondo perduto per interventi di raccolta e stoccaggio acqua nei rifugio e negli Alpeggi. Altri 9 milioni sono invece legati al PSR. Il programma di sviluppo rurale interessa in questo caso più di 1000 aziende solo nel comparto agricolo. Vediamo il servizio. Un aiuto concreto a rifugio e alpeggio arriva da regione Lombardia. La misura proposta dall'assessore Massimo Sertori finanzia con 5,6 milioni a fondo perduto interventi di realizzazione, ripristino e manutenzione straordinaria di piccoli bacini e sistemi di raccolta e stoccaggio delle acque oltre ai relativi sistemi di adduzione e distribuzione. Le risorse sono destinate a comuni, comunità montane, imprese agricole, proprietari e gestori di malga, alpeggi, rifugio e consorzi forestali. Gli interventi finanziari, spiega Sertori, forniscono un supporto fondamentale all'attività agricola e ricettiva dei territori montani. In Valtellina Valchiavenna sono state presentate 69 domande di contributo per un totale finanziato di 5 milioni e 600 mila euro. Ma non è tutto. Alla scadenza del 30 giugno per la programmazione 2023, Regione Lombardia ha pagato oltre 414 milioni di euro a 25 mila 900 aziende agricole beneficiarie delle misure agroambientali del PSR, il programma di sviluppo rurale. In questo caso a Sondrio sono interessate 1.010 aziende per un totale di 8 milioni e 800 mila euro. riscontro economico che in questo momento di grave congiuntura anche dal punto di vista del costo del denaro, dell'accesso al credito e dei costi di produzione aumentati da questa crisi internazionale rappresenta per noi una grande soddisfazione e una grande risposta e per questo la nostra Regione come sempre è all'avanguardia su ogni tipo di aiuto che si fa a un settore così determinante e importante come quello dell'agricoltura e il settore primario lombardo. Ed ora in Altavalle, alla chiesetta di San Terasmo a Cancano la commemorazione dei caduti sul lavoro durante la realizzazione delle dighe di Val Fraele e degli impianti idroelettrici. Ma la giornata è stata anche l'occasione per fare il punto sul rinnovo delle concessioni idroelettriche e delle opportunità appunto legate a queste concessioni per quanto riguarda sia la Valtellina che la Val Chiavenna. Vediamo un servizio. Una tradizione che si rinnova un modo per non dimenticare il passato ma anche per gettare uno sguardo al futuro. Alla chiesetta di San Terasmo a Cancano dove sono custodite le lapidi che riportano i nomi dei defunti la commemorazione dei caduti sul lavoro durante la realizzazione delle dighe in Val Fraele e degli impianti idroelettrici. La giornata è stata organizzata dall'associazione insieme in A2A in collaborazione con A2A SPA e con il CRA A2A un ricordo ha chiedato tanto a volte anche la vita nel nome del progresso. La storia di A2A sia connessa e sia inscindibile rispetto alla storia della Valtellina soprattutto da quando abbiamo cominciato a gestire e a operare con le dighe e credo che anche negli intendimenti di A2A ci sia la volontà di continuare a farlo quindi il momento che abbiamo di fronte oggi è quello di arrivare presto a un rinnovo delle nostre concessioni e quindi della possibilità di continuare ad investire su questo territorio. Il legame con la comunità e con le gente di questi territori è molto forte perché già quando eravamo a M credo che la presenza territoriale abbia sempre inciso profondamente anche nella quotidianità con tutte le attività che fanno da corollario alla gestione della dighe. Intendiamo continuare a farlo perché questo è per noi un fatto assolutamente importante e speriamo che ce ne diano presto la possibilità. L'assessore regionale Massimo Sertori molto ha fatto e molto sta facendo per il rinnovo delle concessioni idroelettriche tema che vuol dire maggiori risorse ricadute per il nostro territorio. Mi piace ricordare che queste dighe e queste invasi sono stati costruiti con grande spirito pionieristico e noi abbiamo anche il dovere di preservarli anche perché sono un'asse strategico per il paese ma anche pensando ai lavoratori che sono morti durante la costruzione quindi a me piace venire qui tutti gli anni alla messa di commemorazione. E il rinnovo delle concessioni idroelettriche diventa così una partita da giocare e da vincere anche in Europa. Oggi abbiamo una legge c'è stata una legge regionale che ha pensato all'adeguamento dei canoni all'energia gratuita insomma una serie di benefici che restano sul territorio c'è poi la scommessa del rinnovo delle concessioni idroelettriche abbiamo condiviso un testo questa volta non in antitesi con i concessionari ma insomma tutte le regioni il governo e anche i concessionari hanno condiviso un testo che mira a valorizzare questi asset adesso c'è un passaggio da fare con l'Europa cercheremo di farlo e spero che per il prossimo anno arriveremo con una soluzione definitiva. Una giornata quella a Cancano con le autorità locali gli alpini i dirigenti di Edwe con dipendenti pensionati i parenti delle vittime in un momento diventato negli anni di devozione popolare. Oggi purtroppo la nostra società è molto bulimica di voci ma anoressica di contenuti di profondità e quindi questo momento è diventato importante perché fare memoria ci dà la possibilità di guardare il futuro con più serenità e con più forza. L'intervento nel sindaco di Val di Dentro Oggi diamo tutto tante cose per scontato ma in realtà le cose che possiamo utilizzare anche oggi sono frutto di sacrifici a volte anche enormi che chi c'è stato prima di noi ha dovuto fare quindi importante essere qui anche quest'anno insieme a tutti gli altri miei colleghi. Torniamo a Sondrio un quartiere da sempre definito difficile che sta cercando però di trovare una sua identità e occasioni di crescita per i più giovani è la Piastra di Sondrio che ha ospitato il Valtellina Urban Fest non più periferia ricca di problemi ma povera di opportunità e qui infatti nel quartiere sud-ovest di Sondrio potrebbe addirittura nascere una vera e propria accademia di arte urbana. Vediamo. Per una Sondrio più bella giovane e pulita è dallo spiccato senso sociale ecco allora il Valtellina Urban Fest l'evento che ha tirato le fila del progetto Movimenti Verticali finanziato dal bando la Lombardia e dei giovani il tutto si è svolto nel parco sportivo Meritone Gabriel fra le case della Piastra Sondrio con laboratori sport, musica e tanto altro. Noi cerchiamo sempre di valorizzare sia gli spazi del quartiere perché si prestano tantissimo per queste iniziative e trovare anche dei format che piacciono per coinvolgere il più numero possibile di ragazzi. Valtellina Urban Fest nasce un po' con questa idea quindi l'idea di ravvivare il quartiere di provare un formato nuovo grazie anche alla collaborazione con Cisco che sappiamo essere nel panorama appunto delle arti urbane particolarmente significativo. Esplosiva la miscela che si è creata fra l'Informa Giovani e Cisco Fly ballerino, cantante, DJ oramai un'icona musicale della città capoluogo. Abbiamo vissuto una bellissima giornata di arte urbane in tutti gli aspetti quindi bello che dire è stata una giornata colorata di tante arti ma anche di evoluzioni di coscienza di strada speriamo che sia stata una cosa che ha contribuito alla crescita personale creatività di tutti i ragazzi. L'iniziativa ha avuto il sostegno dell'amministrazione comunale come testimonia alla costante presenza degli assessori Raffaella Volpatti e Maurizio Piasini ma queste non sono manifestazioni fine a se stesse il progetto è infatti quello di creare un'accademia di arte urbana nel quartiere sud-ovest non più una periferia in parte abbandonata dalla città ma risorsa che pensa ai giovani senza badare alla nazionalità o al paese di provenienza. In conclusione la pagina sportiva altri rinforzi per la nuova Sondro Calcio in vista del campionato di Serie D la nuova avventura che aspetta infatti la squadra valtelinese nelle ultime ore sono arrivati a Sondro Gianmarco Busti difessore centrale nato a Roma nel 1997 Busti è disputato l'ultima stagione in Serie D con l'Anzio un altro volto nuovo per quanto riguarda il Sondro sarà Alessio Sputore centrocampista classe 2004 nato a Vasto fra i protagonisti attesi dalla nuova stagione anche un Sondrese Emanuele Benedetti attaccante classe 2005 l'organico del Sondro vedrà anche l'inclusione di Ronaldo Caballero attaccante esterno spagnolo del 2006 la data del raduno è prevista per il 19 luglio alla Castellina naturalmente tanta attesa per un Sondro che torna in Serie D e poi per il ciclismo sono i giovani colombiani a farlo da padrone nella seconda edizione del Gran Premio Città di Morbegno per la categoria Juniores la spuntata nel Bormegnese Santiago Cruz Martinez 17 anni originario di Bogotà Cruz ha avuto la meglio nei confronti del connazionale e Reno insieme hanno fatto la selezione ben lontani dal traguardo e hanno vinto appunto in solitaria terzo il bergamasco Alessandro Milesi della BS Carrera per una manifestazione decisamente ben riuscita questa era l'ultima notizia per quanto riguarda questo appuntamento con l'informazione grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto e di visione con i nostri programmi grazie per la visione grazie per la visione